Benvenuti nel mondo di orologi Chomé. Chomé è un marchio di orologi di lusso francese con una lunga e ricca storia. Fondata nel 1780 da Marie-Étienne Nithot, l'azienda inizialmente si concentrava sulla creazione di gioielli per la nobiltà europea. Nel corso degli anni, Chomé ha espanso la sua offerta, diventando uno dei principali produttori di orologi di alta gamma al mondo. Chomé è conosciuto per i suoi design eleganti e sofisticati, con orologi che presentano spesso dettagli intricati e finiture di alta qualità. L'azienda utilizza materiali pregiati come l'oro, i diamanti e le pietre preziose, per creare orologi che sono vere e proprie opere d'arte. Tra i modelli di punta di Chomé c'è la linea dandy, caratterizzata da un design classico con finiture di alta qualità. Questi orologi sono dotati di movimenti automatici o al quarzo, e sono disponibili in diverse varianti di colore e di materiali. La linea dandy è molto apprezzata per la sua eleganza e la sua raffinatezza. La linea class 1 di Chomé è invece caratterizzata da uno stile sportivo e materiali innovativi come la ceramica. Questi orologi sono perfetti per chi cerca un orologio di alta gamma da indossare in occasioni informali o sportive. La linea class 1 è molto apprezzata per la sua versatilità e la sua resistenza. In generale, Chomé è considerato uno dei migliori marchi di orologi di alta gamma al mondo. I prezzi dei suoi orologi variano a seconda del modello e dei materiali utilizzati, ma tutti i suoi prodotti sono caratterizzati da una qualità artigianale e da un design senza tempo. La passione per l'orologeria è da sempre una delle caratteristiche distintive di Chomé. L'azienda ha sempre investito in tecnologia e ricerca per creare orologi sempre più precisi e affidabili. Ogni orologio di Chomé è frutto di anni di lavoro e di ricerca, e rappresenta un vero e proprio capolavoro dell'arte orologera.